Ecto Life, l'utero digitale controllato da un'app. Amici di Come Don Quixote, ben ritrovati con il Tecno Ribelle, puntata numero 39. Si chiama Hashim Al-Gaili, 32 milioni di follower su Facebook con video da 17 miliardi di visualizzazioni. È un videomaker e biotecnologo molecolare yemenita di 32 anni. Il suo ragionamento per un nuovo progetto, un po' come quello di Elon Musk per installare un microchip nel cervello umano, per legittimarlo tende ad apparire bonario e persino filantropico, millantando un generoso aiuto inclusivo. Non riuscita ad avere un bambino? Stanchi di aspettare una risposta da un'agenzia di adozione? Preoccupati per le complicazioni della gravidanza? Niente problemi. Presto potrebbe arrivare Ectolife, la prima struttura al mondo per l'utero artificiale, digitalmente controllato. Algoritmi che analizzano il migliore embrione da impiantare nell'utero artificiale, capsule di crescita trasparenti per base da sensori e telecamere, liquido amniotico artificiale, cordone umbilicale digitale, visualizzazioni in HD e super app per monitorare la crescita sullo smartphone, connessioni wireless, feto gestito da remoto con intelligenza artificiale e per i futuri genitore pure un visore ottico come nel metaverso. Sarà in grado di far crescere 30.000 bambini all'anno, l'annuncio transumanista per allevamenti post-umani, trasmissione dati in tempo reale per il piccolo Tamagogi. Tutto ancora sulla carta, certo niente di operativo, ma lo scopo avviare un dibattito per un nuovo modello di genitorialità che Alga Ili crede sarà possibile entro anni e diffuso entro decenni, né più né meno che l'apertura dell'ennesima finestra di Overton. In fondo pure Jeff Bezos ha lanciato Amazon Fertility, centro per la fertilità, al motto di se puoi ordinare i tovaglioli di carta con un click, non dovrebbe valere lo stesso anche per un bambino, visto che tanto Google Play offre già bebè più per monitorare i cresciti da sviluppo e prime tappe del neonato. E poi a Verona c'è la tata digitale e nell'App Store per riconoscimento facciale si determina la somiglianza con i genitori, solo che senza se e senza ma l'equazione bambino-getto-parto-merce è inaccettabile. La pratica della maternità surrogata è un crimine contro le donne e contro i loro figli, viola i diritti umani fondamentali favorendo la mercificazione del corpo femminile, si legge nel libro per l'abolizione della maternità surrogata, ortica, editrice, uscito pochi giorni prima all'annuncio di Ecto Life, dove alla surroga è stato aggiunto il digitale. Il corpo femminile con la sua capacità esclusiva di creare la vita umana viene espropriato e smembrato come materia prima per la produzione tecnologica di esseri umani, insomma partiti dall'inseminazione intrauterina con la quarta rivoluzione industriale vorrebbero arrivare all'artificializzazione della vita, battuta ogni barriera morale, demoliti già sesso e famiglia perché dall'eugenetica all'industria genetica e all'ectogenesi fino al transumanesimo, i nuovi padroni universali puntano dritto all'uomo immortale, al tecno uomo, altro che collegamenti smart. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, saluti ambiente, ge politica, privacy, transumanesimo, controllo sociale, libro e inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.asisana.com Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci. Grazie a tutti i nostri spettatori